Alzate laterali, busto inclinato. Piegati, con il busto in avanti, e le gambe flesse. Mantenete la schiena diritta. Mani in linea retta con le spalle, e i gomiti leggermente flessi. Senza variare l'angolo dei gomiti. Portare le mani in asse con le spalle. Ritornare in posizione di partenza. Grazie a tutti.